Il nuovo progetto politico da dove deve partire? Quali sono i punti programmatici secondo lei fondamentali? Noi non possiamo essere coloro che danno questo paese o a Grillo o a Renzi. I moderati, termine improprio, forse più utile per capire i toni e la sostanza delle cose, credo sia la maggioranza in Italia, lo sono stati per molti anni, prima con l'ADC e poi anche con Forza Italia quando aveva percentuali importanti, sono persi 10 milioni di voti, come già recuperarli con un progetto di cambiamento per l'Italia ma parlando di cose, scendo dalle polemiche, dalla violenza della politica, dal tono dello scontro, questo è un paese che bisogna di unità, di buon senso, di equilibrio, di confronto sulle idee, non di scontro e di violenza. Ma meno Stato e più mercato vale ancora oggi? Secondo me vale sempre di più, ancora di più se si vuole uscire dall'impasto.